in che modo la tua agenda impatterebbe nel meta attuale beh innanzitutto renderebbe finalmente competitiva una casata che nel meta attuale e in quelli precedenti non abbiamo mai visto che sarebbero i tirel il cui tratto cavaliere diciamo dovrebbe essere quello distintivo ma in questo momento è pieno di gente enorme incazzata ci vuole un po di filosofia coi maestri prevedo sinergie un po strane un po di controllone in più che solo i maestri possono dare un po di saggezza serve certe volte servono manzi che reggano la prima neve dell'inverno servono manzi per supportare l'aggro servono manzi in generale quali caratteristiche dell'agenda che hai scelto ti rappresentano di più ma innanzitutto direi il rush e poi i cavalieri cosa fanno hanno un cavallo beh in questo momento la mia barba però vorrei poter dire di saperne qualcosa di letteratura più che altro penso che ma potere sapere potere ragazzi la mente sul corpo per razziare combattere servono gli eserciti io sono dothraki mi serve un esercito mi servono più eserciti e quali che quando ne arriveranno così tanti io ne vorrò ancora di più sono una bella ragazza prova a corteggiarmi come una un protagonista della tua agenda dovrebbe anche essere la più facile fra le tre come era che faceva il cavaliere di fiori dama una rosa per te ragazza non ho solo la barba lunga ho altre doti molto lunghe ma tranquillo potrò farti vedere cose che soltanto l'età possono sapere ehi bella vieni siamo in 200 e ci sono anche i 200 cavalli nello spirito di una corretta competizione di qualcosa ai tuoi avversari cavalieri lo prossimo febbraio l'imperatore bisognerà del vostro aiuto accorrete dunque ragazzi sappiamo già come andrà a finire i maestri saranno uber sgravati al cazzo quindi non c'è niente da dire giocate maestri cosa state pensando di fare con armate e cavalieri maestri tutta la vita paesello fa male fidati e ora che i vecchi muoiano e che i cavalieri amici cavalchino